Persone, suoni, immagini, eventi. Un grande affresco per raccontare una città che mostra orgogliosa le mille anime e la forza delle risorse. Tra le tante realtà che oltre ai cancelli dell'Expo contribuiscono al nutrimento urbano, abbiamo scelto quelle ispirate da arte, design, musica e naturalmente gusto. Stretta tra il Lambro e la tangenziale Est, c'è Polly 50.0, un'area di 4.000 metri quadri, fino a pochi anni fa cuore pulsante del gruppo farmaceutico Bracco. Oggi trasformata in cantiere artistico, culturale e sociale. Un progetto firmato dal collettivo Mostrami, evoluto dalla fondazione Bracco. È uno spazio di sperimentazione in cui i giovani artisti, prettamente nell'ambito delle arti visive, possono avere visibilità, possono svolgere i loro primi passi nell'arte contemporanea e possono appunto sperimentare.